Quali sono i temi che il popolo della famiglia porta in questa campagna elettorale? Il tema principale probabilmente è quello che noi abbiamo chiamato nel nostro programma la peste bianca. Nel XIV secolo chi ha studiato storia si ricorderà ci fu la peste nera, la peste nera causò decine di milioni di morti in Europa. Noi adesso abbiamo una peste bianche in Europa che si chiama Denatalità, sta provocando il lento deperire di tutti i popoli europei, non c'è neanche un paese dei 28 che abbia il cosiddetto tasso di sostituzione cioè 2,1 figli per donna, moriamo più di quelli che nascono, questo è il dato, è un continente vecchio, l'Italia è in assoluto il paese dei 28 più debole sul piano della natalità, 1,3 figli per donna. E allora il popolo della famiglia inevitabilmente con l'alternativa popolare, il partito popolare europeo in questa campagna elettorale propone di fare qualcosa per raddrizzare davvero questo dramma perché poi diventa una emergenza nazionale e continentale. Quello che noi siamo abituati a considerare il welfare europeo, quello che ci tiene tutti in piedi con previdenza gratuita, istruzione gratuita, andiamo al pronto soccorso, la sanità gratuita per tutti, è qualcosa che esiste se ci sono i bambini, se ci sono i figli, se ci sono i giovani, una società che dovesse diventare gerontocratica prima e poi semplicemente popolata di anziani non può reggere, quelle colonne del welfare non reggerebbero, la nostra proposta è reddito di maternità, l'unica maniera per incentivare la natalità è puntare sulla maternità e l'unica maniera vera per puntare sulla maternità è finanziarla, dunque la nostra proposta è 1000 euro al mese per le mamme nei primi 8 anni di vita del figlio, una proposta che può essere finanziata con fondi europei ma anche con i fondi italiani che dovessero essere per esempio presi dalla cancellazione del cosiddetto reddito di cittadinanza che è una misura che sta funzionando poco e male, costa 6 miliardi l'anno, il reddito di maternità ne costerebbe 3, quindi esattamente la metà e produrrebbe un rilancio del sistema paese perché con i figli si crea responsabilità, con i figli la famiglia cresce e se cresce la famiglia cresce l'Italia, se cresce l'Italia cresce l'Europa. Ma frussi migratori controllati potrebbero in qualche modo compensare questo problema di natalità in Europa? Noi non vogliamo che ci sia questo gioco, per cui noi non facciamo più figli e lo spazio lo deleghiamo a milioni, attenzione perché i numeri che servono sono milioni di immigrati in ogni paese perché poi si creano le tensioni sociali che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Noi siamo con Papa Francesco, nella nostra ispirazione cristiana evidente, parlando di immigrazione sostenibile ed è esattamente quello che serve. La verità è che purtroppo oggi in Europa l'Italia è stata sostanzialmente lasciata sola, quindi la proposta del popolo e della famiglia a queste elezioni europee è intanto la rottura del trattato di Dublino perché così non si può andare avanti. Il paese di prima accoglienza che si tiene centinaia di migliaia di migranti, magari dopo una crisi come quella libica, non può essere una soluzione. La soluzione è la solidarietà a livello europeo anche sul piano dell'immigrazione e culturalmente far capire che non esiste il meccanismo per cui gli europei o magari gli italiani non fanno più figli e li sostituiamo quei figli che mancano con milioni di immigrati perché così snaturiamo ciò che è profondamente l'Italia e ciò che è profondamente l'Europa. Esiste un'identità da salvaguardare. Quindi è una questione di presidio etnico, culturale? No, non etnico, neanche di natura mai ne fosse. Insomma, io vengo da un partito e da una tradizione di ispirazione cristiana, ma la radice cristiana d'Europa, come afferma Manfred Weber, che è il nostro candidato alla presidenza della Commissione europea, essendo noi come Popolo la famiglia alternativa popolare esplicitamente collegati al Partito Popolare europeo, anzi siamo gli unici ad avere proprio la scritta integrale nel simbolo. Bene, come dice Manfred Weber, evidentemente la radice cristiana è ciò da cui bisogna ripartire. Non si può negare la radice cristiana d'Europa, non si può sradicare l'Europa, non si può sostituire questa radice rendendola qualcosa di non leggibile e non evidente. Noi dobbiamo semplicemente tornare a quella gioia straordinaria. Io ho avuto la mia terza figlia cinque mesi fa e penso che essere genitori continui a essere una del momento, forse il momento in assoluto più bello dell'esistenza di un essere umano. Dobbiamo semplicemente far sì che i figli siano una ricchezza e non più considerati come un peso. Questo è un elemento centrale della nostra campagna elettorale. Quindi solo un'Europa diversa può in qualche modo raccogliere questa vostra sfida? Evidentemente sì, l'Europa dei burocrati e dei banchieri, l'Europa che si chiude solo nei palazzi di Francoforte è un'Europa senza cuore. Il nostro slogan è ridiamo un cuore all'Europa e questo cuore credo sia fatto del cuore straordinario di una mamma e di un babà che accolgono un bambino.